Con un territorio che si estende per 5,5 milioni di chilometri quadrati, la foresta amazzonica è grande quanto la metà degli Stati Uniti d'America, ma misteriosa è il doppio. Gli esploratori sono riusciti a mappare una porzione infinitesimale della foresta, ma quello che hanno visto è bastato a farle guadagnare una reputazione sorprendente. Ragno ciclosa Anche se molti animali che vivono nella foresta amazzonica sono stati documentati, ne esistono ancora alcuni capaci di stupire gli esperti. Questo ragnetto, per esempio, è stato scoperto nel 2012, nel lato peruviano della foresta. A prima vista la creatura sembra morta e rinsecchita, ma non potrebbe essere più viva. Il ragno, infatti, si è ricoperto con frammenti di foglie, detriti e insettini deceduti. A differenza di altri arachnidi che trascorrono il tempo ad essere ragnatele perfette, la ciclosa impiega le sue giornate a raccogliere materiale che possa aiutarla a costruire un'esca a sua immagine e somiglianza. Nessuno sa quale sia il suo obiettivo. Forse lo fa per allontanare i predatori, o magari è il seguace di uno strano culto misterioso che richiede sacrifici realistici. Non ignorate le ipotesi più strane, perché in Amazzonia tutto è possibile. Stonehenge 2.0 Questa scoperta è difficile da accettare, perché anche la struttura originale da cui prende il nome è ancora oggetto di dibattito da parte degli esperti. Il cerchio di pietre di Stonehenge è famoso in tutto il mondo e ogni anno attrae migliaia di turisti curiosi. Per anni, tutti hanno pensato che quella struttura misteriosa esistesse soltanto in Inghilterra. Ma nel 2016, l'Helson Camelo da Silva, cittadino brasiliano, ha scoperto un secondo cerchio di pietre nascosto nel cuore della foresta amazzonica. L'allevatore di bestiame stava abbattendo degli alberi per convertire una parte di foresta in terreno coltivabile, quando si è imbattuto in un circolo di blocchi di granito di grosse dimensioni. Quando gli scienziati sono a corsi sul posto, hanno scoperto centinaia di forme sul terreno, di cui circa 450 combaciavano con i disegni osservati a Stonehenge. Dopo un'attenta indagine, gli esperti hanno concluso che una cultura indigena vissuta mille anni fa e ormai scomparsa, avesse innalzato i blocchi per usarli come una sorta di osservatorio astronomico. Anche in questo caso, però, non sanno indicare il significato o lo scopo dei disegni. Tesoro di Yanganates Immaginate di addentrarvi in una foresta fitta e rigogliosa e di calarvi in una grotta buia e misteriosa. All'improvviso, davanti a voi si staglia una città perduta, che contiene ancora dei tesori risalenti a migliaia di anni fa. Probabilmente vi aspettereste di sentire l'ok del regista, che interrompe le riprese. Perché queste cose succedono soltanto nei film, ma vi sbagliereste di grosso perché, come vi abbiamo già detto, in Amazzonia tutto è possibile. Nel lato ecuadoriano della foresta dei ricercatori hanno scoperto infatti una struttura gigantesca ricca di tesori. Sembra che il re inca Atahualpa avesse offerto l'oro ai conquistatori spagnoli in cambio della libertà della sua gente, ma che fosse stato ucciso prima che il generale potesse uscire dalla foresta. A quel punto il capo delle forze armate, Ruminaui, avrebbe ordinato ai suoi uomini di seppellire l'oro nel terreno disabitato dei Lianganates, dove è rimasto fino ad oggi. Molti ricercatori di tesori hanno cercato in vano di rintracciarlo, ma di recente il governo ha individuato il punto di sepoltura. Prima di estrarre l'oro e convertire il sito in una destinazione turistica, però, dovrà vedersela con le trappole nascoste nella grotta. Fiume bollente L'Amazzonia è la foresta ploviale naturale più vasta del mondo, e in quanto tale ha espirato innumerevoli miti e leggende. Uno di questi racconta di un fiume magico, capace di bollire chiunque si avvicini. Molti conquistatori spagnoli rientrati dalle spedizioni hanno parlato del fiume bollente dei suoi poteri, ma non sono mai stati creduti. Soltanto nel 2011 i primi turisti sono riusciti a girare un filmato che conferma l'esistenza del fiume d'acqua rovente. Chiamato Ceynitimpishka o semplicemente la bomba, il fiume scorre per 6,5 chilometri prima di immergersi nel rio delle Amazzoni, ed è considerato l'unico corso d'acqua bollente al mondo. La temperatura si aggira tra i 27 e i 94 gradi centigradi, ed è sufficiente per ostionare gravemente qualsiasi tipo di essere vivente che provi ad avvicinarsi. I ricercatori hanno cercato la fonte del calore dell'acqua, ma non sono riusciti a trovare una spiegazione plausibile. Per il momento le comunità indigene continuano a credere che sia dovuto agli spiriti che abitano il fiume. Alberi che camminano. Se avete visto i film della saga Il Signore degli Anelli, conoscete senz'altro la leggenda degli alberi che si spostano all'interno della foresta magica. Forse però non sapete che in Amazzonia esistono degli alberi capaci di muoversi a loro volta, anche se non ai livelli delle piante di Tolkien. Il loro nome scientifico è Cachapona, ma vengono chiamate solitamente palme che camminano. Invece di aspettare che il sole le raggiunga per dare inizio alla fotosintesi, sono loro che si spostano per seguire i suoi raggi. Il motivo è che nella foresta amazonica gli alberi sono costretti a competere tra loro per la luce solare, perché sono tutti molto alti e vicini tra loro. Le palme quindi si sono evolute per mantenere un vantaggio sulle altre piante. Il tronco di questi alberi snelli, alti fino a 25 metri, si sposta di circa 3 centimetri al giorno, sostituendo le vecchie radici rimaste all'ombra durante la traversata. Le palme che camminano sono state scoperte nel 2015, quando dei ricercatori le hanno viste muoversi nella foresta. Il processo può richiedere diversi anni e di solito è invisibile all'occhio umano, ma può essere seguito chiaramente con una videocamera ben piantata a terra. Le piante non sono gli unici esseri viventi ad essersi evoluti per sfruttare al meglio le condizioni dell'Amazzonia. Questo territorio è talmente unico che anche gli animali continuano a mutare. Nel 2013 una squadra di ricercatori dell'Università Federale dell'Amazzonia ha scoperto una nuova specie di delfini rosa nel fiume Araguaia. I delfini d'acqua dolci sono già piuttosto rari, ma quelli rosa sono semplicemente unici. Sono chiamati Boto e vivono soltanto in Amazzonia. Nella famiglia dei delfini il Boto è considerato un gigante perché può crescere fino a 2 metri di lunghezza e pesare anche 200 kg. Anche se nasce grigio, ogni esemplare diventa rosa quando raggiunge l'età adulta. I ricercatori hanno cercato di scoprire da quale sostanza assumono il pigmento rosa, ma finora non sono riusciti a trovare una risposta definitiva. Secondo alcuni il colore deriva dal rosso del sangue che li ricopre in seguito alle lotte aggressive che combattono, mentre altri credono che sia causato semplicemente dall'evoluzione ambientale e la necessità di camuffarsi nel fiume. Qualunque sia la motivazione, dobbiamo ammettere che non esiste niente di più carino di un delfino rosa. Barriera corallina Nel 2016, gli scienziati, le ditte petrolifere e il governo brasiliano hanno ricevuto una sorpresa inaspettata durante l'esplorazione delle acque paludose del rio delle Amazzoni. L'obiettivo era, come al solito, la ricerca di pozzi petroliferi nascosti, ma il risultato è stata una sorprendente barriera corallina sepolta nel cuore della foresta. L'esistenza della barriera, che si estende per 9300 chilometri quadrati tra la Guyana francese e lo stato brasiliano di Maranao, ha lasciato gli scienziati a bocca aperta perché tutti pensavano che l'ecosistema amazzonico fosse troppo inospitale per degli organismi delicati come i coralli. Questi organismi, infatti, hanno bisogno di acqua salata pulita e ben illuminata, molto diversa dalle paludi che si nascondono nel profondo della foresta. I coralli, però, non sembrano soffrire delle condizioni ambientali. Finora gli scienziati hanno catalogato più di 60 specie di spugne, 73 di pesci, aragoste e stelle marine. Picket fence Saliamo sul podio con una scoperta che ha richiesto molti anni prima di essere rinvenuta e che, quando è venuta alla luce, ha causato una grande confusione tra gli scienziati. Nel 2013, Troy Alexander, studente dell'Università Georgia Tech, stava visitando il lato peruviano dell'Amazzonia, quando scoperto una struttura minuscola a forma di staccionata circolare. I ricercatori hanno studiato per mesi quelle che sono state definite Silk Edge, condividendo note ed ipotesi con gli esperti di tutto il mondo. Le staccionate in miniatura erano sparse per la foresta e sembravano il frutto dell'opera di un essere umano, o quantomeno di un animale, anche se gli scienziati non riuscivano a capire chi fosse il responsabile. Le staccionate di Silk Edge sono rimaste un misterio fino a quando Jeff Kramer, fotografo, ha filmato per puro caso un piccolo ragno arancione mentre usciva da un uovo nel bel mezzo del cerchio. Sembrava un ragno salticida, ma in realtà apparteneva ad una specie mai documentata prima. Gli esperti credono che usi le staccionate di seta per proteggere le uova e intrappolare le termiti. Una tecnica mai osservata prima d'ora tra i ranni. The Peanut Head Bug L'Amazzonia ha un ecosistema prediletto da molti animali strani, già scoperti o ancora nascosti. E quello che stiamo per mostrarvi rientra di diritto nella categoria. Conosciuto anche come mosca lanterna e serpente volante, l'insetto testa di arachide è unico nel suo genere. Se pensate che il nome sia assurdo, aspettate di vedere che aspetto ha. La sua testa grossa ricorda proprio il guscio di un arachide. L'insetto è stato osservato e studiato fin dal suo primo avvistamento, nel 2014, ed è risultato una creatura inoffensiva per gli umani. Appartiene alla famiglia delle fulgoride, delle mosche con la testa sproporzionata rispetto al corpo. La sua testa di arachide può misurare fino a 8 cm e, secondo gli scienziati, viene usata per intimidire i predatori, nel momento che il suo vero carattere è timido e mite. Civiltà Maya Per migliaia di anni, molte popolazioni si sono stabilite nella foresta amazzonica, dove hanno prosperato fino alla scomparsa. Molte di loro sono sprofondate nei ricordi della storia, senza lasciarsi dietro alcuna traccia. Ma per fortuna, la tecnologia in continua evoluzione ci permette ciclicamente di risalire alle civiltà considerate perdute per sempre. Nel 2018, per esempio, dei ricercatori sono tornati ad esplorare il letto della foresta di di pertinenza del Guatemala e hanno scoperto delle rovine Maya di più di 60.000 anni. L'area di El Tzotz era già stata perlostrata in lungo e in largo, ma i primi risultati sono sbocati soltanto con l'introduzione di nuove tecnologie radar. Con il Lidar, gli scienziati hanno potuto sbirciare sotto il terreno e hanno svelato l'esistenza di un insediamento misterioso. Quello che sembrava solo un piccolo villaggio, si è rivelato una città Maya che in passato deve aver ospitato migliaia di abitanti. Gli scienziati impiegheranno anni ad analizzare i risultati, ma credono che questa scoperta permetterà di scoprire di più su una civiltà tanto importante del nostro passato. Che altro pensate che si nasconda nella foresta amazzonica? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.